Pace e bene cari fratelli e sorelle. In questo tempo di prova e di quarantena, al quale siamo sottoposti a causa del coronavirus, eleviamo la nostra preghiera al Signore perché ci liberi presto da questa pandemia, ricordando in particolare gli ammalati e i più deboli. Al contempo, chiediamogli che ci aiuti a vivere questo tempo in modo significativo, entrando nelle occasioni che ci offre. Sì, anche questo tempo può essere un'occasione favorevole per la nostra conversione e crescita umana e spirituale. Lasciamoci insegnare qualcosa dalla natura. Sapete come nasce una perla, tanto preziosa e bella? Nasce quando un corpuscolo esterno, spesso un parassita, penetra nell'ostrica. I tessuti del tenero mollusco reagiscono dolorosamente al corpo estraneo e lasciano colare attorno a quella gente esterno, che non possono eliminare, come tante piccole lacrime, e cioè i sali preziosi che formano la perla, la cosiddetta madre perla. Dunque, miei cari, dalla sofferenza di un'ostrica nasce una perla. Così potremmo leggere e vivere questo tempo. Un tempo in cui le lacrime e le fatiche possono forgiare le perle più belle della nostra vita. Ad esempio, la perla di un rapporto più intenso e vero con il Signore, il solo capace di infondere pace e speranza ai nostri cuori. La perla di un maggior contatto con noi stessi, spesso connessi al mondo intero ma sconnessi dalla nostra interiorità. La perla di un rapporto più intenso con le persone a noi vicine, che sia marito, moglie, figli, genitori, confratelli e consorelle, persone a noi prossime, che a volte, presi dalla frenesia del quotidiano, diventano quasi estranee. E ancora, la perla di una relazione più intensa, anche se a distanza, con parenti, amici, conoscenti, riscoprendo il bene prezioso dell'affetto, dell'amicizia e di tutto ciò che ci è stato donato, che troppe volte diamo per scontato. E ancora, le perle di un lavoro sofferto ma ben fatto, anche se magari da casa, del dono generoso di se stessi per la custodia degli altri e per il bene degli altri. Quanti esempi belli di tanti medici e infermieri. Insomma, quante perle potrei ancora citare. Ma mi fermo qui. Auguro a ciascuno di voi di comporre, in questi giorni, speriamo brevi, la sua collana di perle preziose, tenute insieme dalla meravigliosa catenina della fede e dal vincolo preziosissimo della carità, che il Buon Dio vi benedica.